Buongiorno, dottor Hans, sono la dottoressa Sheehan, chiamo dal Boy's Memoria. Volevo la conferma dell'orario d'arrivo dei suoi chirurghi. Dottor Hans, ancora nessuna notizia dei suoi medici. Stiamo cominciando a preoccuparci. Nessun altro finale di stagione vi lascerà col piatto sospeso. Grace Anatomy, lunedì prossimo alle 21 su Fox Live. Complicata? E tu come ti senti? Dillo su Fox Live.